4500 euro per la Croce Rossa da parte dei feintini. Si è conclusa la campagna di raccolta fondi portata avanti in questi mesi dalle pagine Facebook 6 di Feinza Se e Feinza Aperta. Io resto a casa e faccio cose, il titolo dell'iniziativa che invitava i feintini a postare video di intrattenimento durante il periodo di confinamento a casa per fare compagnia ai concittadini e nel frattempo invitare le persone a donare a favore della Croce Rossa. Sono arrivati moltissimi video, interventi musicali, ricette di cucina, pillole teatrali e tanto altro. Alla fine sull'Iban della Croce Rossa Manfredo sono arrivati 4500 euro per far affrontare le numerose spese che il Comitato ha sostenuto durante questo periodo. Tanti servizi fatti partire per la comunità che hanno affiancato i normali servizi dei volontari portati avanti anche al di fuori del territorio Manfredo. E cosa forse più importante, oltre alla donazione sono arrivati in Croce Rossa moltissimi nuovi volontari. Abbiamo fatto il tempo della gentilezza come è stato istituito a livello nazionale, cioè trasporto farmaci, gente che era in casa, chiusa in casa col Covid, che non poteva fare la spesa e siamo andati a fargli la spesa e portargli alla casa. portare vestiti, pigiami, roba del genere. Chi veniva ricoverato, perché veniva ricoverato in ambulanza, nessuno poteva andare col paziente e si ritrovava magari il reparto senza niente da metterci addosso, quindi chiedevano a noi come fare e come non fare e riuscivamo a portare anche queste cose qui. L'assistenza, tanti hanno chiamato perché volevano solo parlare, avevano bisogno di parlare e questa è stata un'assistenza che ci ha preso un po' all'improvviso perché non eravamo preparati a tutto questo macello però a questo in particolare, all'ascolto, non eravamo molto preparati però piano piano ci siamo adeguati anche a questo lavoro qui. Poi inoltre abbiamo continuato con tutti i trasporti che facevamo di solito anche se sono calati perché sono state sospese tutte le visite in ospedale, tutte queste cose qui, quindi sono molto calati però abbiamo sempre fatto comunque anche servizi di questo genere. Canto al sostegno economico sono arrivati anche moltissimi volontari, diceva prima. Sì, questa è stata una cosa bellissima. La nostra presidenza ha approvato il volontario temporaneo, cioè un volontario che poteva dare la sua adesione non aveva bisogno di corsi per entrare, non aveva bisogno di pagare la tessera per entrare in Croce Rossa come invece abbiamo fatto tutti noi. E gli veniva fatto un brevissimo corso solo sull'utilizzo dei DPI e su questi lavori che venivano fatti. Si sono presentati ben 105 persone che ci hanno dato la loro disponibilità e ci dispiace di non averli potuti usare, è una brutta parola, ma attivare tutti quanti. Di questi 105 attualmente ce ne sono ben 52 che fanno il corso per entrare come volontari regolari. Questa cosa ha seminato molto bene se si pensa che gli altri corsi si faceva fatica a arrivare alle 10 persone minime. Per ringraziare tutti i sostenitori della raccolta FONDE si sta pensando ad un concerto con la regia di Giordano San Giorgi che ha fornito il proprio supporto alle pagine Facebook durante questi mesi e con la partecipazione di tutti i musicisti che hanno appoggiato l'iniziativa.